Amici del Bardo, lunedì 28 febbraio e anche oggi sono qui con la rassegna stampa dedicata alla WWE. E allora iniziamo con Becky Lynch contro Bianca Belair che è stato posizionato nella Night One di Vrestalmania. Eh sì, i due titoli femminili della federazione saranno nella stessa card, quella di sabato. Becky contro Bianca e Ronda Rousey contro Charlotte Flair. Una scelta non così strana, non così strana in alcune dirette recenti, l'avevo anche intuita, l'avevo immaginata. Perché bisogna in qualche modo, evidentemente, controbilanciare il fortissimo main event della Night Two, della seconda serata domenica, con Roman Reigns contro Brock Lesnar. Parliamo ora di Hall of Fame. Per il momento c'è solo The Undertaker tra i protagonisti annunciati per l'induzione nella sala della Gloria Eterna di quest'anno. E qualcuno sul web sta iniziando a ritenere che WWE possa mettere in piedi una Kermess dedicata solo al Finnom. Stando a Vrestal Boats invece no. Stando a Vrestal Boats altri nominati lo saranno al più presto. Addirittura magari nella puntata di Raw che andrà in onda stanotte negli Stati Uniti. Quindi stiamo a vedere. Mettere l'Undertaker da solo nella Hall of Fame, secondo me sarebbe un'idea grandiosa. celebrerebbe al meglio il suo personaggio inimitabile, inconfondibile e con pochissimi paragoni nella storia globale del wrestling. Però chiaramente WWE deve riempire un'ora con questa iniziativa, con questa proposta e farlo con un solo personaggio non è così semplice. A meno che tu non passi la linea e la parola a tantissimi suoi contemporanei per raccontarne le gesta e le testimonianze. Staremo a vedere cosa accadrà. Intanto da qualche giorno spira un vento fortissimo che riguarda Vince McMahon. Secondo questi rumor il padre padrone della WWE dovrebbe scendere in campo a Vrestal Mania contro Pat McAfee. Giovedì Vince sarà ospite dello show di McAfee trasmesso anche su YouTube e lì dovrebbero iniziare i dissapori tra i due che porterebbero poi a questa battaglia. Io so cosa state pensando. Vince McMahon se non sbaglio ha 76 anni. Non è in shape, cioè non ha la forma fisica per affrontare un match. Per essere un 76enne chiaramente si è allenato tutta la vita, si vede che non ha la pancia, gli ardominali e quant'altro. E lavora ancora molto duramente a detta dei suoi collaboratori. Però nel ring lo abbiamo visto anche qualche anno fa, insomma ormai ha dato, il suo tempo è finito. Ma ci sono due cose che vi invito a considerare prima di scrivere e la solita baracconata della WWE. La prima è che Vince in un modo o nell'altro potrebbe farsi rappresentare in questo match. Cioè arrivare, cambiare le regole, avere degli scudieri, dei vassalli, dei prezzolati che combattono al suo posto. E poi la sua performance terminare con una sberla o un pugno che lo fa cadere e viene schiedato. Certo McAfee non mi sembra l'avversario ideale in generale, ma per qualche motivo mio, nel senso ha molto carisma, al commento di SmackDown ci mette un'energia pazzesca, però non è un wrestler. Non è un wrestler, ha disputato qualche incontro a NXT, ha fatto bene contro Cole ad esempio, riesce a coinvolgere la gente perché ha un'arte oratoria particolarmente affilata, però, però ripeto, non è un wrestler fatto e finito. La seconda cosa che vi consiglio di valutare è che l'età anagrafica di Vince sta ovviamente aumentando. E se dovesse inserirsi in un match, io vedrei questa cosa, al di là del faranno spettacolo, boh, aspettiamo, magari esce una cosa dignitosa, però io la vedrei come una sorta di dichiarazione d'amore. Mettetela così. Una sorta di... So che più passano le stagioni, meno chance avrò di fare una performance anche limitata come questa, nello show però che ho inventato io, nel quale ho scommesso, e lo fece, tutto il futuro della mia azienda. Perché se la prima Vrestalmania fosse andata male, oggi non guarderemmo la WWE. E forse il panorama del wrestling non sarebbe arrivato ai giorni nostri. Ovviamente è un what if grande come un Everest, però ci si può discutere. Quindi io vedo queste due direzioni. Un possibile match di fumo, smoke and mirror, dicono gli americani, per questo tipo di battaglia dove uno dei protagonisti, chiaramente inidonio alla sfida, si fa sostituire o rappresentare. E poi anche un possibile atto d'amore come per dire, ci metto un'ultima firma. Un'ultima firma non solo dietro le quinte, ma anche sul ring. Ora, in generale, la logica mi fa sperare che questo scenario qua non si realizzi. Perché sarà facile per i detrattori della WWE sputare veleno su questa cosa. Già prima, e figuriamoci dopo, se non dovesse essere un match spettacolare. Io ricordo un Vince contro la famiglia Hart, mi pare, c'è una cosa... O c'era Bret Hart che si faceva aiutare dalla famiglia. Francamente molto, molto brutto. Ecco. Però questa è la cornice che mi sento di dare al rumor molto persistente che da diversi giorni sta galoppando sul web. Triple H molto probabilmente non lotterà più a causa dei suoi problemi cardiaci. Beh, non ci voleva il Wrestling Observer a dircelo. L'abbiamo riferito, ce lo siamo detto tante volte nelle live di YouTube e di Twitch. Insomma, sarebbe effettivamente molto, molto rischioso per Triple H tornare a combattere. Questo non vuol dire che la cosa è fuori discussione, ma che chiaramente è molto improbabile che ciò accada. Questa roba qua ve la segnalo perché mi chiedete sempre quando torna Asuka la vogliamo rivedere e via dicendo. C'erano dei rumors su di lei, su una possibile apparizione nel Royal Rumble Match e poi la lottatrice nipponica non si è fatta vedere. Qui ci dicono che la WWE non ha piani creativi per il suo rientro. Quindi un titolo, quello di PW Insider, cioè preso da una news di PW Insider che sembra molto negativo. Io però lo voglio contenere perché è normale che WWE non abbia piani creativi al 28 di febbraio per il ritorno nel ring di Asuka. Ora la priorità della federazione è settare i match di Vrestalmania e rendere quello show un grande successo. Ci sono già diverse battaglie femminili che si stanno delineando. C'è Ronda Rousey contro Charlotte, c'è Becky Lynch contro Bianca Berer. Saranno sicuramente difesi i titoli tech team femminili. Non è escluso che possa saltar fuori un quarto incontro. Ma fossero anche tre, io credo che probabilmente arriveranno ad un quarto in qualche modo, beh comunque sono tutti i match che hanno delle storie, che hanno una narrativa. Certo, due di questi, anzi tre di questi hanno dei titoli in paglio. Però c'è qualcosa che è già stato edificato in passato. Un ritorno nel ring di Asuka in così poco tempo, a così breve distanza da Vrestalmania, costringerebbe la federazione a inventarsi un qualcosa di molto rapido e magari anche di poco attrattivo. Quindi al momento, poi magari sarò smentito già tra poche ore, al momento io capisco, capisco questa roba, perché ci si sta finalizzando su un altro obiettivo, posto che come molti di voi non vedo l'ora di rivedere Asuka tra le protagoniste. Qua abbiamo delle dichiarazioni di Carmella, che ha dato credito a The Miz come il suo più grande mentore in WWE. La ragazza è stata intervistata, sapete che è partito lo show che la coinvolge, lei e Corey Graves, e praticamente ha detto che The Miz ha un talento unico in WWE, perché qualsiasi ruolo gli dai, lui troverà il modo per brillare di fronte alle telecamere. E ha detto, vorrei tanto essere capace di essere creativa come lui. E quando sono arrivata qui, spesso andavo da The Miz a chiedere consiglio, a chiedere indicazioni, a farmi dare insomma qualche suggerimento per fare al meglio il mio lavoro. Tra l'altro aggiunto, mi piacerebbe un domani diventare la The Miz al femminile. Chiudiamo con Shane McMahon, eccolo qua, che ha portato i figli ad una manifestazione sportiva al Mason Square Garden. Io non ci sono mai entrato, però al Mason Square Garden sono esposte molte delle memorabilia degli atleti che hanno fatto grande questo palazzetto sportivo. Ed ecco Shane vicino alla bacheca dedicata a Vrestelmenia 1, 31 marzo 1985. Ovviamente c'è Hulk Hogan, che troneggia, c'è un poster, ma ci sono anche insomma le locandine, c'è la card e gli stivali RP che credo siano quelli di Roddy Piper, che di Hulk Hogan è stato un grandissimo avversario e che è stato protagonista insomma della battaglia in quel palazzetto che ha coinvolto anche Mr. T, proveniente direttamente dal telefilm a puntate televisivo e i team. Beh, è proprio bello vedere queste cose, sembra di essere un po' lì con Shane, e allora ho voluto proporvi anche questa testimonianza. Va bene, direi che per oggi abbiamo finito, è lunedì 28 febbraio, siete ancora in tempo se vi va alle 21 a raggiungermi su Twitch, perché stasera facciamo, così per ridere, un quiz di cultura generale per scoprire chi è il più somaro e il più secchione tra quelli che avranno voglia di giocare. Ok? Se vi va ci becchiamo su Twitch alle 21. Altrimenti vi invito a lasciare un commento qui sotto alle news che vi ho messo in tavola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.